Mancavano pochi minuti alle 4 quando a volto travisato un soggetto è entrato dentro al locale dopo aver forzato la porta d'ingresso. Poi si è rivolto verso la telecamera di video sorveglianza con il tito medio ed infine la messa fuori uso. È successo nelle ultime notti al Garden River, locale in zona oltrarno a San Giovanni Valdarno. Il tutto è stato immortalato dalla video sorveglianza e poi postato sui social dal locale. Questa è la nostra situazione da tre mesi a questa parte dopo denunce, segnalazioni e quant'altro. La situazione è sempre questa, scrivono esasperati sui social i proprietari. Dopo migliaia di euro di danni tra porte, attrezzature e merci nessuno ancora ha mosso un dito, si sfogano ancora. Una grande amarezza dunque quella dei proprietari del Garden River, misero invece il bottino. A San Giovanni ormai da mesi questi episodi si ripresentano periodicamente. Periodicamente lo stesso locale era già finito in più occasioni nel mirino dei banditi.